buon 4 di luglio ah lo spawn non lo so, ho com'è questa impressione che invece secondo me sia un ottimo modo per farmarli non lo so, completamente questo lo prendiamo al tornado di fuoco un regalo umile per il brigantino del tornado di fuoco ah ok quindi c'è rimasto solo, no aspetta c'è quello del capitano che lo dobbiamo fare ecco vabbè i brigantino ci attaccheranno a vista io ho molta voglia di andare con lo scialuppo il parire di atena fino al tornado di fuoco oh mio dio tu no pol dai vai con me sono di buon amore a fuori non ho capito un regalo di un barriere di atena un regalo molto un regalo molto generoso un regalo molto umile umilmente gli sfondo la nave beh io vengo volentieri e non lo dico a tutti ok 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 tanto nemmeno prendere se fosse quindi cose da pescare con la natura diciamo potevamo toglierci la che maledizione tu suoi scende e anche io ci ho pensato vabbè il brigantino dovrebbe veramente stare fermo ah è fermo allora adesso lo dovrebbe affondare ma noi stiamo generosi ma questo è del babbo natale esatto noi portiamo dei bimbi molto buoni un regalo che vale un sacco di soldi ok andate stando no sono ripartiti perché gli hai preso un po' che palle c'è non è possibile che non ci abbiamo visti tu sottovaluti quanto poco si vedono le sciacuppe in mare quanto quanta awareness al giocatore migliore so io però so che il boss non lo sapendo con noi appunto vai verso la nave eh però la nave sta viaggiando non la recuperiamo proverei a fare il giro a beccarli dall'altro lato stanno andando da poco non mi sembra una c'è forma schillatissima anche perchè hanno gestito dai prendere giù sembra ok questo è un po' di là non troppo male non troppo male stanno arrivando ma guarda andiamo ah no subito si chiamano eh io ho paura su se ci sono mi stiamo generosi c'è già auto vorrei riuscire con la pillo la pillo ho divertito bisognava che ci fosse il perry con la spada che puoi rispedirgli la pillo e se lo becchia al momento che se fai l'attacco caricato contro la pillo io non mandi un patch eh dai esatto quello ci sta alla fine è solo reward è un gioco in cui ti spari dal cannone potrebbero anche metterlo una meccanica così si anche perchè sono veramente le spugne a questi posti messi per cui ti usai l'hanno tutti un bel bug se ti pensi a per cui non so guarda guarda da un minuto che ne ho andiamo a stare in baglia stiamo si stanno cosa faccio? si ma io volevo ormeggio la scialuppa vabbè io ormeggio la scialuppa li distraghi portali davanti sulla cosa così lo scendo uno è morto hanno due bulti vieni Paul si è già partita buon 4 di lui uno è respawnato ed è esploso oh no e direi che l'ho messo bene che ho detto e direi che l'ho messo abbastanza bene porca droide gli è volato tutto vieni a se c'è qualche povero grigido si c'è un tizio sono affondato sto combattendo con uno che non sa cosa ti piace l'ho shottato e via l'ho shottato